Musica In il Valle Sagrao è un pobo che festeja un cazua e differente per la sua yunzata sin igual. Cada remate di carnavali si riunisce a tutto il pobo e visitanti, con la sombra di molti árboli per talare. Chiedi a cantare e cantare tu? Visita la MAI, la terra del Ulpo e il Cui al Palo. Gastronomia, artesania, danza, agua, alegría e diversión para toda la familia en un solo lugar. Visita la MAI, perché te queremos. Este è il carnaval! Il gran remate! La chica baila con una energia di tutte le miei diosiche. E quando lo bonito è bonito, per dove lo mires lo è. Ora si! Soldato, soldato, soldato! Soldato, soldato! Soldato, soldato! La chica, chica! E la chica, 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 chica! La chica, chica, chica! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no.